E' l'ora di dire basta i freddi numeri, i calcoli servono certo, ma più di ogni altra cosa la sanità dovrebbe mettere al centro della sua programmazione la persona, le sue esigenze, quelle di vedersi garantito un diritto, le cure, al poter seguire un percorso che sia sempre libero, non ingolfato, come spesso accade. Il Vescovo della Diocesi Nocera Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, snocciola il suo pensiero sul tema sanità, sempre attuale, delicato, nell'ambito di una giornata per certi versi commovente, ma di riflessione, quella della visita agli ammalati dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, un percorso che il Vescovo aveva già iniziato qualche tempo fa, con il cammino tra i reparti del Tortore di Pagani e proseguito al Martiri di Villa Malta di Sarno. Abbiamo insieme percorso la Via della Croce e lo abbiamo fatto oggi qui nell'ospedale di Nocera, ogni venerdì durante questa Quaresima vado a visitare gli ammalati, lo fanno quotidianamente le suori, i cappellani, coloro che stanno accanto agli ammalati, i volontari, i medici, però è bello che il Vescovo in questo tempo di Quaresima trovi il tempo per recuperare il segno della presenza. Ero malato e siete venuti a visitarmi. Il Signore ce lo ricorda e questo andare verso di Lui con le piaghe ci fa capire la profondità della sofferenza che c'è nel mondo a tutti i livelli. Allora, la mia preghiera, il mio grazie a coloro che come Cirenei, come Veroniche, si fermano accanto agli ammalati, avendo sempre nel cuore questa parola di Gesù. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Abbiamo bisogno anche di una sanità che non si fermi ai numeri, ma alla persona, perché la persona che soffre è segno del Cristo paziente.